Per ricostruire la dinamica dell'infortunio costato la vita a Luana Dorazio, la mamma di 22 anni, morta lo scorso 3 maggio nella fabbrica in cui lavorava come apprendista, l'orditura Luana Dioste, servirà a convocare i tecnici della Karl Mayer Taxil Machine Fabric, la casa costruttrice del macchinario. Oggi i consulenti nominati dalla procura, dai due indagati, la titolare dell'azienda Luana Coppini e il manutentore dell'orditoio che ha agganciato e trascinato via l'operaia Mario Cusimano e dai legali che assistono la famiglia Dorazio, si sono dati appuntamento per avviare la perizia utile a mettere in fila tutti i tasselli della tragedia. Secondo quanto trapelato, l'orditoio sarebbe stato avviato e sarebbe stata scaricata la registrazione delle fasi di lavorazione delle ore precedenti all'incidente, una registrazione fatta di codici che necessitano di una lettura e di una interpretazione precise che probabilmente solo i costruttori sono in grado di restituire. Si tratta di accertare la fase esatta della lavorazione quando la giovane è stata risucchiata, eventuali anomalie nel funzionamento, la velocità con cui l'orditoio stava operando e se davvero, come sostiene la procura dal primo momento e come viene contestato agli indagati, siano stati fatti interventi per consentire al macchinario di lavorare anche in assenza delle cautele antinfortunistiche. In particolare, gli investigatori parlano di saracinesca alzata e quindi di mancanza di una barriera tra l'operaia e il macchinario in funzione. Intanto è previsto nei prossimi giorni l'interrogatorio del manutentore che si è detto disponibile a rispondere alle domande degli inquirenti che hanno già sentito i colleghi della vittima, che hanno raccontato le modalità con le quali gli orditoi e gli altri macchinari venivano messi in funzione e fatti lavorare.